Ciao a tutti, oggi sono felice di presentarvi uno dei nostri meravigliosi prodotti di Forever, Forever Eye Vision. Forever Eye Vision è un prodotto innovativo che supporta la vista. Potresti pensare, ora non ne ho bisogno, i miei occhi funzionano piuttosto bene. Ma il fatto è che oggi, nella cosiddetta era digitale, i nostri occhi lavorano molto di più che in passato e non si tratta solo di pura performance visiva. Ci affidiamo ai nostri occhi per filtrare i raggi UV e le sostanze inquinanti, ma li esponiamo anche ai dispositivi mobili, come computer, televisori, per ore e ore durante la giornata. Per farvi un esempio, un adulto passa in media 11 ore al giorno davanti ad uno schermo. Gli adolescenti vi trascorrono circa 9 ore al giorno e anche i bambini, dagli 8 ai 12 anni, trascorrono già 6 ore davanti allo schermo e sono tante. Come vedi, chiediamo molto ai nostri occhi e il tutto inizia già in tenera età. Per questo motivo è particolarmente importante proteggerli dal sovraccarico e dai danni a lungo termine. Ed è qui che entra in gioco Forever Eye Vision. Contiene il potere concentrato di ingredienti vegetali come l'estratto di tagete, l'estratto di mirtillo o il succo di carota nera, ma anche antiossidanti e vitamine di alta qualità. La vitamina A e lo zinco, ad esempio, aiutano a preservare la vista, mentre la vitamina C e la E proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Nutriente come i carotenoidi svolgono un ruolo molto importante nel mantenimento della vista. Il nostro corpo non produce da solo queste importanti sostanze nutritive, motivo per cui dovremmo assumerne la giusta quantità attraverso una dieta equilibrata. Visto che questo non è così facile da fare nella nostra frenetica vita quotidiana, ci sono integratori alimentari come Forever Eye Vision che possono darci una mano. Forever Eye Vision combina i carotenoidi necessari e clinicamente testati, l'uteina e xiaxantina attraverso l'ingrediente Lutemax 2020 e completano in modo ottimale la formula del prodotto Forever Eye Vision. Quindi, se come me, desideri dare ai tuoi occhi una prospettiva ancora migliore, ti consiglio caldamente il nostro prodotto Forever Eye Vision. Ti auguro tanto divertimento e benessere con i prodotti di Forever. Technology is moving faster than ever before. Exciting developments and discoveries are making it easier to be constantly connected no matter where we are in the world. But the modern day convenience and constant connectivity can also take a toll on your vision. Computer screens, tablets, smartphones, televisions and gaming systems expose our eyes to harmful blue light that causes eye strength, fatigue, blurriness and may even contribute to long-term damage. Don't you think it's time for an eye supplement that doesn't just promote eye health but meets the demands of our modern world? Introducing Forever Eye Vision. This powerful supplement supports healthy vision and helps filter blue light from digital devices, enhances glare recovery time, supports visual processing speed, helps replenish macular pigment and maintains overall eye health. Forever Eye Vision features Lutemax 2020, a naturally derived, clinically studied blend of all three carotenoids needed to maintain eye health. Studies show that supplementation with these carotenoids not only filter blue light but help fight free radicals and protect against age-related macular degeneration. We've combined Lutemax 2020 with Bilberry Extract, Beta-Carotene, Zinc and Vitamin C and E. This powerful combination provides an ideal balance of eye-enhancing nutrients for teens and adults of all ages. It's never too late or too soon to make your vision a priority. Formulated with today's modern challenges in mind, it's easy to see that the future of eye support is here with Forever Eye Vision. It's not only filter blue light, it's easy to see that the future of eye support is here with the future of eye-enhancing, because it's also an ideal balance of eye-enhancing. It does not mean that the future of eye-enhancing nutrients are very well-many. It does not mean that the future of eye-enhancing with the future of eye-enhancing that are very well-term, you know, too. Grazie.